Allora ragazzi, iniziamo a guardare qualche esercizio per quanto concerne quelli di ottica e sulle lenti. Iniziamo da questo esercizio che nel libro quello vecchio è a pagina 197 ed è il numero 36. Calcolare la rotazione da dare a una lastra a facce piane e parallele di vetro flint dello spessore di 15 mm per ottenere uno spostamento del raggio luminoso pari a 0,05 cm. Adesso stiamo parlando di una lastra di vetro, quindi una lastra a facce piane e parallele e quindi un raggio che colpisce la lastra e ne fuoriesce. Vogliamo sapere che spessore deve avere, in base allo spessore della lastra che è di 15 mm, se volessimo ottenere una distanza di traslazione del raggio emesso dalla lastra di pari a 0,05 cm che sono 0,5 mm, quanto dovrebbe essere la rotazione, quindi l'angolo di incidenza? Allora, la formula ovviamente che ci va a interessare è quella che lega la distanza, la D piccola di spostamento del raggio luminoso tra l'incidente e quello emesso, l'indice di rifrazione e l'angolo, quindi, espressi radianti, di cui noi andiamo a conoscere ovviamente, essendo un vetro flint, sarà tabellato, e vi farò vedere adesso la tabella, e conosciamo già la D piccolina, che è 0,05 cm, e la S, lo spessore della lastra, è 1,5 cm, perché spostiamo, convertiamo i 15 mm in cm, e diventano 1,5 cm. Quindi, vi faccio vedere adesso la tabella dove c'è l'espresso il valore del vetro flint per quanto concerne l'indice di rifrazione. Come vedete, l'indice di rifrazione è relativo di alcune sostanze rispetto all'aria, perché parliamo di aria vetro flint. Il vetro flint è pari a 1,60. Quindi, questo valore ce lo andremo ad appuntare sul nostro bel foglio come valore relativo all'indice di rifrazione del vetro flint. Allora, iniziamo a scrivere che cosa? I dati che noi conosciamo. Allora, conosciamo intanto, per iniziare, la D piccola. Allora, intanto vi scrivo il vetro flint. Scritto quindi la N del vetro flint pari a 1,60. Scriviamo quindi la formula che ci servirà, dalla quale poi deriveremo il valore dell'angolo. E la formula, ovviamente, è questa. D è uguale allo spessore, che moltiplica n-1 fratto n, che moltiplica l'angolo espresso in radianti. Quello che noi interessa è questo valore qui. Questo valore qui, quindi ricaviamoci la formula in funzione dell'angolo espresso in radianti, sarà uguale a cosa? a D per N fratto S per N-1. Andiamo adesso a sostituire al suo interno i valori che noi conosciamo, e cioè la D, allora, andiamo a scrivere, la D, che non è altro che 0,05, espressa in centimetri, quindi ricordiamoci che lo spessore andrà espresso in centimetri, per 1,60, che è il valore dell'indice di rifrazione, fratto 1,5, che è lo spessore espresso in centimetri, fratto 1,60-1. Da qui otteniamo un valore pari a 0,088889 espresso in radianti. Se vi ricordate, andando a vedere il valore che ci chiedeva la traccia, e andiamo subito a vederlo, ecco qui la traccia, ce lo chiede espresso in sessagesimali, quindi in gradi primi e secondi. Quindi con la nostra calcolatrice andiamo a convertire il nostro valore da gradi radianti a gradi sessagesimali, ricordandoci che il valore che ci uscirà fuori sarà in sessadecimali, e andrà convertito. Aperta la nostra calcolatrice, andiamo a scrivere direttamente la formula, così vi faccio vedere. Allora, abbiamo in alto, dobbiamo scrivere 0,05 per 1,60. Nella parte bassa dobbiamo scrivere 1,5 per, aperta parentesi, 1,60-1, chiusa parentesi. Il valore è 0,08888. Questo valore lo vogliamo convertire, ho impostato ovviamente qui in alto in radianti, dobbiamo convertirlo in un angolo che è, ve lo dico subito, dobbiamo convertirlo da radianti a sessagesimali. L'angolo in sessadecimali è 5,092958. Espresso in, se ci fate caso, lo convertiamo, lo convertite con la calcolatrice, il valore uscirà precisamente 5 gradi, 5 primi, e 3, 4, 6, 4, quindi approssimato 35 secondi, che è, se ci andiamo a vedere sul risultato della traccia, che è esattamente quello che ci veniva dato come risultato. Quindi il primo esercizio si completa in questo modo. Quindi, l'importante è capire la traccia, cosa chiede la traccia, e in base alle nostre conoscenze, alle nostre formule, cercare di trovare la formula adeguata alla risoluzione. E, come dicevamo, questo valore diventa uguale a 5 gradi, 5 primi, e 3, 4, 6, 4, secondi, che in realtà non sono altro che 35 secondi. Esattamente quanto usciva sulla traccia. L'esercizio termina qui. Andiamo adesso a vedere il secondo esercizio, che è il numero 38 della stessa pagina del vecchio libro. La traccia dice una sorgente luminosa posta a 10 metri da uno specchio piano emette un raggio che incontra lo specchio con un angolo di incidenza di 60 gradi sessagesimali e si riflette fino ad arrivare su uno schermo posto parallelamente allo specchio. Sapendo che tutto il cammino percorso dal raggio è pari a 50 metri, calcolare la distanza tra lo specchio e lo schermo. Ora, la traccia magari potrebbe trarre un attimino un inganno. Bisogna semplicemente ragionare per ipotesi. E adesso vi faccio vedere come realmente non serve tanto le formule di ottica ma quanto le considerazioni che vengono fatte in ottica. allora rileggiamo un attimino veloce la traccia una esercizionale luminosa è posta a 10 metri da uno specchio quindi lo specchio lo faccio appositamente inclinato allora vado a disegnare lo specchio quindi questa è la direzione dello specchio questa è la sua normale chiamerò B il punto in cui supposto che questa sia A la sorgente dello specchio e che questo sia il raggio che colpisce B nello specchio formando un angolo di incidenza di 60 gradi e che A sia posta a una distanza di 10 metri vado a considerare che cosa che questa qui e questa qui non sono altro che due parallele e questo non è un altro che la trasversale quindi due angoli alterni alterni all'altra trasversale praticamente cosa hanno in comune sono identici quindi anche questo qui sarà 60 gradi e qui avrò l'angolo retto quindi di questo triangolo io posso andare a calcolarmi quant'è la distanza AB AB non è altro che l'ipotenusa quindi AB è pari a cosa supposto che io conosco invece il cateto A chiamiamo M AM sarebbe uguale alla ipotenusa per il coseno dell'angolo adiacente perché 60 gradi è adiacente da M quindi formula inversa avrò AM fratto il coseno di 60 gradi AM non è altro che 10 metri ma ancora prima di fare questo ragionamento potrei anche dire dalle regole dell'ottica nella riflessione so che l'angolo incidente è identico all'angolo riflesso quindi da qui uscirà un raggio dove anche questo sarà 60 gradi 60 gradi e incontrerà praticamente un altro praticamente lo schermo posto in modo parallelo in questo caso supponiamo posto in modo parallelo allo specchio nel punto C il problema il problema vuole conoscere quanto è tutto il percorso quindi ma in realtà vuole sapere quant'è la distanza questa chiamiamola distanza così così non ci confondiamo tra lo specchio e lo schermo che è posto qui questa distanza l'andremo a trovare mettendo in relazione questo triangolo e questo triangolo che hanno in comune che cosa due angoli anche questo sarà 60 o meglio tutti tutti gli angoli perché se questa è retta e quella è 60 di conseguenza l'altro angolo è noto ed è 30 allora quindi dovrò dire per conoscere questo come posso fare a mettere in relazione qualcosa che non conosco allora ci dice tutto il percorso deve essere pari a 50 metri quindi vuol dire che AB più BC deve essere uguale a 50 metri ma adesso io devo esprimere AB e BC in funzione di ciò che conosco o di ciò che non conosco quindi AB possiamo metterci che cosa AM fratto coseno di 60 quindi AM fratto il coseno di 60 ricordiamoci che AM è noto più in questo caso la mia incognita è chiamiamo N l'incognita è CN quindi CN fratto che cosa il coseno di 60 scusate questa deve essere pari a 50 metri la nostra incognita è questa qui di conseguenza ricaviamo la formula come raccogliamo il coseno di 60 quindi otteniamo che 1 fratto il coseno di 60 che moltiplica AM più CN deve essere uguale a 50 metri di conseguenza esplicitando il tutto otteniamo che 50 metri per coseno di 60 devo trovare CN quindi AM passa di là quindi meno AM sarà uguale a CN quindi CN che è la nostra incognita andremo a sostituire adesso i vari valori quindi andremo a sostituire i nuovi valori e scriveremo che cosa che 50 per il coseno di 60 quindi 50 per il coseno di 60 gradi meno quant'era il nostro AM era 10 metri sarà uguale al nostro CN che è la distanza dello specchio dal pannello allora prendiamo la calcolatrice andiamo a scrivere quindi 50 per il coseno di 60 gradi chiusa parentesi meno 10 metri uguale ci esce fuori 15 metri andiamo adesso a riguardare sulla traccia se è giusto il risultato andiamo intanto a trascriverlo quindi CN sarà uguale a 15 metri quindi la distanza del pannello dal suo specchio affinché il percorso del raggio sia 50 metri è di 15 metri andiamo a vedere sulla traccia quanto deve uscire allora sulla traccia ci dà esattamente 15 metri di risultato quindi anche questo esercizio ci è uscito come avete visto non è necessario dover applicare in continuazione le formule dell'ottica ma basta semplicemente ricordarsi le regole in questo caso l'unica cosa che ci è servita è quella che l'angolo incidente è pari a quello emesso nella riflessione e poi non abbiamo dovuto fare altro che paragonare due triangoli e ragionare sul percorso come se fossero le due ipotenuse e per differenza ricavarci una formula che noi in realtà già sapevamo ma per farvi capire come funzionano alcuni esercizi anche dell'ottica l'esercizio finisce qui l'esercizio termina quindi qui e come avete visto sono semplicemente due calcoli classici questa è la fine del nostro esercizio che segue alla risoluzione fatta poco prima i calcoli sono questi io adesso vi saluto e vi rimando al prossimo esercizio allora passiamo adesso al terzo esercizio allora un raggio luminoso scusate numero 42 un raggio luminoso monocromatico proveniente dall'aria penetra in un mezzo trasparente avente indice di rifrazione pari a 1,192 calcolare la direzione del raggio incidente in modo che gli angoli di incidenza e di rifrazione siano complementari allora ricordiamoci intanto un raggio luminoso monocromatico quindi una sola lunghezza d'onda quindi come si considerano un raggio singolo penetra nell'aria anzi dall'aria in un mezzo trasparente avente un indice di rifrazione pari a 1,192 vuole sapere la direzione quindi l'angolo del raggio di incidente in modo tale che la somma dell'angolo incidente è di rifrazione siano complementari complementare vuol dire che la somma dei due angoli corrisponde a 90 gradi in questo caso sessagesimali quindi l'angolo di incidenza per come viene dato il risultato qui adesso è di dovrebbe uscire 50 gradi andiamo adesso a rappresentare la nostra diciamo il nostro problema facciamo il disegno e prendiamo le nostre considerazioni allora andiamo a rappresentare praticamente la nostra superficie di separazione la nostra normale anche se la disegno prima andrebbe disegnata successivamente il nostro raggio luminoso monocromatico che da colpisce con l'angolo di incidenza i la superficie e viene rifratta con angolo di rifrazione r l'ho fatto così perché se vi ricordate quando il valore n è maggiore di 1 vuol dire che il mezzo il raggio sta passando da un mezzo meno denso a un mezzo meno denso e vorrei ricordarvi anche che n in generale in questo caso n1 2 è il rapporto fra il seno del raggio incidente fratto il seno del raggio rifratto di conseguenza possiamo dire che noi conosciamo questo e non conosciamo né l'angolo di incidente l'incidenza né l'angolo di rifrazione ma come possiamo ragionare sappiamo intanto che i due angoli devono essere complanari quindi i più r devono essere pari a 90 gradi di conseguenza potrei scrivere uno in funzione dell'altro quindi potrei scrivere siccome devo andare a calcolarmi il raggio di incidenza quindi devo ottenere un valore che mi dia raggio di incidenza mi ricavo il raggio dell'angolo di rifrazione come 90 gradi meno i di conseguenza vado a sostituire all'interno della nostra espressione che vediamo qui in alto il valore di r e posso scrivere che n 1 2 sarà uguale al seno di fratto il seno di 90 meno i a questo punto cosa succede succede che ci troviamo davanti a una funzione trigonometrica di una differenza di angoli quindi qui adesso dobbiamo fare riferimento se vi ricordate della trigonometria alle formule di sottrazione e andiamo a vedere qual è la formula di sottrazione che ci interessa ve la mostro ma vi dico già che dovrebbe che è il seno di una differenza di angoli è pari al seno del primo per il coseno del secondo meno il coseno del primo per il seno del secondo e andiamo a vederla allora andiamo a vedere in questo caso questa è la formula che a noi interessa seno di alfa meno beta è uguale al seno di alfa per il coseno di beta meno il coseno di alfa per il seno di beta andiamo quindi ad applicarla al nostro diciamo alla nostra situazione allora andiamo a scrivere quindi il seno di 90 meno i a cosa corrisponde allora abbiamo detto che è il seno del primo angolo quindi di 90 per il coseno del secondo angolo meno il coseno del primo angolo per il seno del secondo angolo ma andiamo a vedere il seno di 90 gradi quanto vale? il seno di 90 gradi sappiamo benissimo che vale 1 quindi 1 per il coseno di meno il coseno invece a 90 gradi sappiamo che vale 0 quindi qui abbiamo 0 per il seno di quindi questa parte se ne va rimane solo coseno di questo è ciò che andremo a sostituire qui e di conseguenza otterremo che n12 sarà pari a seno di fratto coseno di che altro non è che la tangente di adesso noi conosciamo il valore di n12 dobbiamo trovare il valore di i quindi possiamo scrivere che i è uguale all'arco tangente di n12 cioè l'arco tangente l'arco tangente di 1,192 e andiamo con la calcolatrice a vedere quanto è in questo valore allora andiamo a scrivere quindi l'arco tangente di 1,192 seconda funzione tangente alla meno 1 1,192 chiusa uguale esce 50,0058 quindi possiamo diciamo approssimare a 50 gradi sessagesimali di conseguenza andiamo torniamo al nostro esercizio lo scriviamo 50,0058 quindi questo valore sarà uguale a 50,0058 che possiamo approssimare a circa 50 gradi di conseguenza l'esercizio termina qui e possiamo dire che i l'angolo di incidenza sarà 50 gradi quello di rifrazione sarà di conseguenza 90 meno 50 che fa 40 gradi se andiamo a verificare sulla traccia ma ve l'ho fatto notare un po' prima l'angolo di incidenza che ci veniva richiesto è proprio esattamente 50 gradi andiamo adesso a vedere l'ultimo esercizio sulle lenti e andiamo a vedere praticamente cosa ci viene chiesto esercizio numero 45 un oggetto un oggetto luminoso posto alla distanza di 60 cm da una lente sottile convergente origina un'immagine che si forma a una distanza di 35 cm dalla lente calcolare la distanza focale della lente e dire come sarà l'immagine ci dice già che la distanza focale dovrebbe uscire 22,10 l'immagine capovolta rimpicciolita e un'immagine reale andiamo adesso a trascrivere gli unici due dati che ci vengono dati in realtà tre perché ci dice che la lente è convergente e supporre ovviamente posizionandoli diciamo più o meno in scala l'oggetto e l'immagine e andare a ricavare in base alle formule che conosciamo la nostra distanza focale allora abbiamo detto che abbiamo un oggetto luminoso posto a una distanza di 60 cm da una lente settile convergente quindi facciamo la nostra lente questo è l'asse della lente questo è il centro ottico della lente questo qui sarà l'asse ottico quindi andiamo a posizionare l'oggetto a 60 cm quindi supponiamo di fare 1 2 3 4 5 6 una distanza di 60 cm dalla lente quindi questa distanza è 60 cm e ci dice tal oggetto darà un'immagine a una distanza di 35 cm quindi più o meno dovrebbe essere qui tra le distanze 75 cm sappiamo già benissimo che in questo caso l'oggetto essendo dalla parte opposta dove arriva il raggio luminoso supponiamo che sia qui adesso non l'ho fatto bene ma il raggio parallelo all'asse ottico deve passare per il fuoco e si incontrerà con il raggio che dal fonte luminosa passa per il centro ottico non subisce deviazioni e mi danno la fine dell'immagine anche perché l'origine dell'oggetto io l'ho disegnata qui ma in realtà potrebbe anche non essere qui ma essere un solo punto rimane invariata perché passa per il centro ottico ed è comunque già gente sull'asse ottico quindi otteniamo questa immagine graficamente ma andiamo a vedere adesso analiticamente come si fa allora la formula che ci viene incontro è quella ovviamente della diottria cioè del 1 fratto f andiamo a scriverla 1 fratto f deve essere uguale a 1 fratto di più 1 fratto di piccolo dove il di piccolo è 35 centimetri e il di grande è 60 centimetri di conseguenza cosa succede? succede che andiamo a semplicemente a sostituire questi valori e otteniamo che 1 su f dovrà essere uguale a che cosa? a 1 su 60 più 1 su 35 tale valore andiamo a prendere la calcolatrice vediamo quanto esce successivamente faremo ovviamente f come il suo reciproco quindi il tutto questo alla meno 1 e andiamo a vedere cosa esce allora andiamo a fare questa operazione apriamo la parentesi 1 diviso 60 chiusa la parentesi più apriamo di nuovo la parentesi 1 diviso 35 chiusa la parentesi questo valore ci dice che è 0 0 45 23 80 95 24 ma no di questo valore dovremmo fare che cosa? ans quindi questo 1 su x dove in questo caso 1 su x è l'inverso e lo andiamo a fare lo andiamo quindi a fare con questo tasto alla meno 1 esce fuori un valore pari a 22 10 52 63 questo non è altro che la distanza focale perché è l'inverso del valore che ci è uscito di questa tipologia di lente andiamo adesso a trascrivere il tutto sul nostro esercizio allora questo valore ci è uscito 22 virgola 10 53 questi qua sono centimetri ovviamente 22 centimetri virgola 10 53 quindi questa è la distanza focale adesso volevo sapere come sarà l'immagine per far questo dobbiamo andare a vedere quello schemino che abbiamo visto nella spiegazione e cioè andare a considerare se la d è maggiore di 2f e verificare praticamente in questo caso che l'immagine sia praticamente si vada a posizionare fra il fuoco e due volte la distanza focale questo è il caso perché praticamente 2f sarebbe 2x22 quindi sarebbe 44 centimetri e di 60 centimetri quindi è verificato di conseguenza dobbiamo verificare se questi 35 centimetri sono compresi fra 22,10 e 44,20 in questo caso ed è vero anche questo quindi andiamo a vedere nella nostra nel nostro schemino se l'immagine quindi si avrà capovolta un'immagine reale e se sarà rimpicciolita allora andiamo a vedere in questo caso la nostra situazione qual è è esattamente questa situazione qui di maggiore la seconda che avete qui in elenco di maggiore di 2 volte la distanza focale quindi l'immagine si avrà compresa fra il fuoco e 2 volte il fuoco e infatti la nostra immagine AB situazione B piccolino ragazzi ci darà un'immagine ribaltata rimpicciolita rispetto all'originale è comunque reale perché essendo dalla parte opposta da dove arriva il raggio può essere impressa su uno schermo di conseguenza è reale quindi la risposta corretta è quella dell'esercizio è verificata da quello ci viene detto nella traccia e cioè 22,10 la distanza focale l'immagine è rimpicciolita è ribaltata ed è reale l'esercizio termina qui